Un nuovo farmaco mette in trappola la degenerazione maculare, la grave malattia degli occhi che a 65 anni colpisce un italiano su 10, ma che a partire da questa età cresce fino a interessare un terzo della popolazione. Nella degenerazione maculare si assiste alla crescita abnorme di nuovi vasi che sollevano il centro della retina. La Flibercept blocca questo meccanismo. Francesco Bandello, perché questa azione è fondamentale? La nuova sostanza di cui si parla è capace di legare il VEGF in un modo stabile, fermo, e quindi garantisce un'efficacia terapeutica contro questa devastante malattia. La molecola effettivamente finisce come nelle chele di una ragosta implacabile? È verissimo. L'immagine che si ottiene quando si riproduce su carta le modalità d'azione del farmaco è quella del farmaco che abbraccia interamente la molecola di VEGF e ne blocca la capacità di interagire con i recettori endoteliali. Una pronta efficace quindi nel bloccare la malattia e anche una somministrazione più comoda. Ma questa malattia, la degenerazione maculare, si può prevenire? La prevenzione è affidata a delle misure di igiene e di vita che sono rappresentate dal non fumare, dall'alimentarsi in modo sano utilizzando la dieta mediterranea. Lo stile di vita pugliese è un'ottima prevenzione? Assolutamente sì, come possiamo dire a buon ragione anche io posso dirlo.